...la truppa per lo spettacolo. Ah, Maxime, l'ho dimenticata di dirtelo. Domani partiamo. Veniamo da voi. In campagna, dai vecchi? Sì, per sette giorni. Andiamo a Gagri poi. Ah, devo caricare la sveglia. Domani mattina partiamo presto. A che ora? Non so, forse verso le sette. I biglietti non li ho io, li ha Ignati e così... Posso accompagnarvi alla stazione, allora? Come preferisci. Io vado da Ignaca. Arrivederci. Ciao. Ah, Maxime, digli di non fare troppo tardi, almeno stasera. D'accordo? Giù, giù così, sì. Rilassata. Bene. Su. Piano. Fletti? Poggia la pianta su ginocchio. Così. Lascia. L'altra. Più veloce, più veloce. Ritmo, ragazzi. Bene. Di un po', amico. Dov'è che si allenano i lottatori, per favore? Sempre dritto là in fondo, poi sali a destra. Grazie. Lettere, bene. Lettere. Ti getti sull'altro fianco, ti rovesci in giù e lo tieni a terra. E dopo, appena hai scongiurato il pericolo, una gragnola di mosse a sorpresa. L'avversario si disorienta e incanti lo spettatore. Su, vieni che ti faccio vedere l'ultima mossa. Ti do il vantaggio della presa. Hop, hop là, rovesciata e contropresa, hai capito? Non guardate. Vieni che proviamo ancora. Ignati. Ah, salve fratello. Ciao. Continuate da soli voi due.